Prima di prendere il primo cane, il corso per chi sta decidendo quale cane scegliere e ti do tutte quelle considerazioni che magari dal punto di vista emotivo non stai pensando ma fondamentali per vivere bene col cane che scegli. Oggi parleremo del problema delicato di dove prendere il cane. Benissimo, allora sicuramente poi ci sarà chi storcerà un po' quel naso di questa puntata ma ne parleremo nei commenti. Ovviamente lo scopo è sempre mettervi nelle condizioni di sapere esattamente come funzionano un po' queste cose. Allora, anzitutto nella lezione precedente abbiamo parlato delle cani di razza, di quale razza scegliere e non ho toccato l'argomento dei meticci proprio perché ne parliamo oggi e perché non appartiene appunto al cane di razza. Cos'è un meticcio? Un meticcio non è altro che un mix tra più razze o comunque un mix di cani la cui razza non è ben definita. È vero anche che quindi qualora io facesse colpiare un rottweiler con un labrador o un mix di razza dove tra virgoletto delle linee guida è secondo il principio che abbiamo detto se appartengono ancora ancora allo stesso gruppo da un punto di vista caratteriale cambierà poco se invece appartengono a gruppi diversi il rischio principalmente è quello che potremmo avere o tutti i lati negativi di una razza uniti ai lati negativi dell'altra o comunque delle risposte inaspettate quindi un labbratore faccia la guardia o un rottweiler che stia pancia all'aria a giocare con tutti. E questo ancora nel momento in cui abbiamo un mix di cui conosciamo comunque la provenienza ma nel momento in cui non conosciamo la provenienza o parliamo di meticci, figli di meticci, figli di meticci potrebbero esserci 5, 6, 7 razze nel mezzo e quindi si viene a creare un soggetto di cui non è detto è negativo, cattivo, pericoloso, squilibrato ma comunque non ne sappiamo le caratteristiche non possiamo dire quel cane sarà così perché qua stiamo parlando sempre delle previsioni Bene, detto questo, quindi cosa vuol dire? Che nel momento in cui io scelgo dove prendere un cane apro davanti la macro selezione cane di razza e quindi mi rivolgerò, ora vediamo, tra allevatori, privati, negozianti, eccetera o prendo un meticcio che sia o direttamente dalla strada noi qui in Sicilia ce ne abbiamo negativamente parlando a portata di mano o comunque in un rifugio, presso un'associazione, presso un appunto annuncio che trovo online ebbene, già qui io do a cosa vado incontro qualora scegliessi di prendere un meticcio e quindi o lo prendo in strada o lo prendo in associazione o in canile, poco cambia è un cane i cui trocchi che abbiamo fatto si svaniscono totalmente cioè non posso prevedere assolutamente nulla posso anche avere magari la fortuna di sapere che la madre è un beagle ma su quel cucciolo se è un meticcio purtroppo non potrò prevedere nulla equivale semplicemente a mi adatterò la vita in base alle sue esigenze quindi perché sconsigliamo sempre di prendere un meticcio perché se tu hai determinate esigenze di tempi, di orari, di stile di vita, di vita sociale che sono quelle e ti prendi un meticcio che magari avrà tutt'altro stile di vita vai a sbagliare scelta sbagliare scelta significa avere una vita complicata e negativa per te proprietario tanto quanto per il cane per cui poi nascono i cani con disturbi comportamentali i cani stressati, i cani che distruggono casa i cani che fanno pipì ovunque eccetera semplicemente perché il cane è sbagliato nel contesto sbagliato quindi questa rubrica nasce per aiutarti a fare la scelta giusta del tuo primo cane per cui meticcio si se hai le condizioni di modificare la tua vita avrai un cane attivo tu diventerai attivo avrai un cane che ha bisogno di stare in campagna lo potrai, gli potrai dare una vita da campagna è un cane che vuole stare a dormire 24 ore lo farai dormire 24 ore eccetera quindi la scelta lì diventa semplicemente un riadattarsi poi quando ha otto mesi, un anno mostrerà quello che è la sua vera magari identità ha il suo vero stile di vita e allora ti riedatti se hai delle esigenze, hai bambini in casa ti ripeto lavori 8 ore, 8-12 ore consecutive al giorno non ami la montagna, non ami il mare o al contrario ami troppo la vita sociale allora dedicati a un cane di razza ti dico già che per legge il cane di razza è solo se hai il pedigree non se fisicamente ha la faccia di un carlino ma deve avere il pedigree se no fondamentalmente non possiamo garantire che genitori e nonnie fino alla quarta generazione appartengono a quella razza le alternative allora realmente la soluzione dovrebbe essere una sola contatto gli allevatori riconosciuti ENCI o allevatori amatoriali di cui posso entrare in contatto con l'allevamento e chiedo di prendere un soggetto né più né meno ora sempre parentesi legislativa l'ENCI che è l'ente nazionale di cinofilia italiana è l'unico ente che mi può certificare il cane di razza ancora che significa che ci sono determinati allevamenti che richiedono all'ENCI di poter avere la certificazione dimostrano il loro lavoro circa l'allevamento e la selezione e l'ENCI ridà da quello che si chiama in gergo affisso per ovviamente dargli l'autorizzazione a dire ok sì tu produci cani di quella razza poi che siano equilibrati o meno non può giustamente l'ENCI entrare in merito ma quantomeno gli è dimostrato che da tot di anni fai un tot di cucciolate di quella razza con pedigree questo ancora cosa vuol dire che nel mondo ideale se tutto funzionasse alla perfezione per avere un'ottima certezza sul soggetto che stai prendendo rivolgiti a un allevatore e con affisso ENCI li trovi online, li trovi sul sito ENCI quindi c'è tutto un registro ben certificato quello che ancora ti ricordo però esserci due sempre linee di sangue soprattutto agli allevatori c'è chi alleva per carattere c'è chi alleva per bellezza chi alleva razze da lavoro quindi pastori, caccia eccetera ma fa una selezione da bellezza tendenzialmente sono cani anche un po' più calmi quindi non hanno quel spiccato carattere estremizzato come invece possa avere un beagle con pedigree selezionato per la caccia e allora lì abbiamo sicuramente un carattere molto più spiccato da cacciatore quindi ancora chiediamo all'allevatore se alleva per bellezza o per carattere e lì tra virgolette dovremmo avere un buon 90% di successo circa il cane che prendiamo una valida alternativa che ti consiglio è rivolgerti a un allevatore amatoriale un allevatore amatoriale che cos'è? un allevatore che da anni alleva quella determinata razza ma che non ha ancora l'affisso o non vuole l'affisso enci ma comunque produce cani di razza con pedigree e quant'altro qual è la differenza? io un allevatore amatoriale non avendo magari quello spirito di competizione di creare tante cucciolate perché l'enci ovviamente ti chiede un tot di cucciolate l'anno per mantenere l'affisso mentre se sei amatoriale no spesso lo si fa come hobby, come passione quindi magari si fanno meno cucciolate si curano in maniera un po' più dettagliata si vive in maniera anche più serena quella che possa essere una cucciolata e soprattutto allevatore amatoriale ce n'è di più di quelli con affisso quindi di conseguenza io magari ho modo di confrontarmi con più persone di vedere più cucciolate e via dicendo ma qui vi ripeto l'importante è che voi andate a vedere i genitori poi la differenza sicuramente la farà la correttezza della persona tutto ciò che coinvolge annunci su siti internet annunci sui social cucciolate prese nei cofani delle macchine o anche nelle attività commerciali sono altamente sconsigliate ora non voglio dire che andrebbero vietate per legge per quanto in teoria c'è pure una legge che vieta questo tipo di commercio ma raramente viene applicato però è quanto di più sbagliato potete fare come scelta anche dal semplice prendo il cane in negozio significa che noi stiamo prendendo un cane che anche solo per una due settimane è stato tolto dalla madre chiuso in un acquario di vetro senza acqua stato messo in un'attività commerciale cioè luci sparate a palla tutto il giorno mille mila visitatori che bussano sul vetro gente che magari lo tocca lo guarda lo insulta eccetera nel periodo di vita più sensibile che va dal giorno zero ai primi due o tre mesi dove lì si formano eventualmente tutte le insicurezze paure o diffidenze del cane nei confronti di ciò che vive in negativo quindi immaginati che prendere un cane che per anche una settimana è stato in un negozio o è stato in una condizione diversa da a casa con mamma e fratellini significa che stai partendo già da un cane semi traumatizzato e questo tipo di trauma non lo vai a recuperare perché è quello che c'è scritto è la prima scrittura nel cervello diciamo del cane nei confronti della relazione col mondo e con l'uomo e quella non la toglierai mai così come appunto prendere un cane perché ho visto l'annuncio ma non ha pedigree o è stata una cucciolata presa in campagna tenuta in campagna o fatta in un contesto non adeguato quindi magari la classica casa con cinque bambini che corrono, gridano, urlano tutto il giorno ci dà un altissimo rischio quindi anche qui i tarocchi parlano chiaro il rischio di una brutta esperienza di avere un cane problematico e abbastanza alta quindi andiamo un attimo a riassumere dove prendere un cane? allevamento con affisso o allevamento amatoriale? sì, senza dubbio con la sicurezza di poter entrare in allevamento vedere i genitori quanto meno la madre se il padre fisicamente non vive in allevamento e poi scegliere lì il cucciolo più adatto anche qui quale scegliamo istintivamente il cucciolo quello che lo vediamo più attivo di tutti che subito, che appena ci vede viene da noi non è quello che ti ha scelto ma è quello più cornuto che ha un carattere molto più forte proprio perché ha questa spigliatezza prendilo solo se non è il tuo primo cane soprattutto sai come gestirlo vuoi fare tante attività così come il cucciolo che sta nell'angolo remoto della stanza che non si avvicina assolutamente tendenzialmente sarà quel cane più timido e insicuro che poi ti potrà mostrare determinati problemi in questo senso la giustaria di mezzo è quei cuccioli che dopo un 3-4 minuti che magari sei stanza con loro si interessano a te vengono, ti odorano si allontanano si lasciano accarezzare ma comunque li vedi in maniera con un carattere abbastanza calmo e sereno senza che ti scelgano naturalmente se il tuo scopo è avere un cane calmo e tranquillo che ti dia meno pensieri rispetto a invece un cane da lavoro dove dovrai passare molto più tempo con loro bene, sconsigliati negozi cofani delle macchine annunci online e soprattutto cani senza pedigree a meno che non puoi prendere un neticcio quindi non acquistare un cane ma prenderlo in un'associazione canile o quant'altro dove però già sai che parti da delle condizioni svantaggiate svantaggiate di un cane che possibilmente ha avuto un trauma o quantomeno è un cane che non ha avuto il giusto imprinting con l'uomo imprinting che è semplicemente le prime esperienze in assoluto che è un soggetto in questo caso il cane vive nei primi giorni di vita significa che un buon imprinting con l'uomo arriva solo se il cane nasce per mano umana e nell'arco del prima settimana o due settimane entra in contatto con l'essere umano il medicetto che è stato trovato a due mesi in una campagna al 99% non ha avuto un imprinting con l'uomo ma non semplicemente che ha avuto una brutta esperienza ma non avendo avuto esperienze equivale a cane che non accetterà mai serenamente l'uomo nella sua vita ok? quindi mi raccomando la scelta è tra le cose più importanti scrivimi nei commenti qualsiasi dubbio hai scriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo modulo dove ci concentriamo un attimo sulle considerazioni sull'alimentazione bene, vi ringrazio di seguirvi il format prima di prendere il primo cane